buonasera a tutti cittadini italiani signori e signore allora questo è il primo video che faccio in italiano riguardante linux e riguardante diversi software insomma la roba che propone questo sistema operativo open source è gratuito ok bene voglio andare ad analizzare il software sed che si chiama sed che è uno stream editor si dice in inglese quindi si non lo traduco neanche non lo so comunque un software che è stato creato negli anni 70 ma che è ancora oggi utilissimo come vedrete allora lo userò per correggere un file di testo che ho trovato su internet che sono dei sottotitoli e che hanno il verbo essere in terza persona quindi è hanno l'accento dalla parte sbagliata quindi hanno un accento come se fosse e e non è quindi andiamo prima di tutto a cat il file che è zeitgeist zeitgeist demovit it sorti ok allora faccio anche un pipe less ok perfetto come possiamo vedere qua ci ritroviamo il file pieno di queste e ok con l'accento penso che sia chiuso questo si questo deve essere d'accento chiuso se non sbaglio che è sbagliato che non deve essere così assolutamente non così ma così quindi non e ma è la spiritualità è quel particolare termine non la spiritualità è quel particolare termine e come vediamo ovviamente è pieno 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 uno qua uno qua quindi già le prime tre righe sono già piene di errori vabbè diciamo che uno potrebbe anche modificarlo manualmente con un editor di testo però serve una gran menata soprattutto calcolando che vabbè questo qua sono non so migliaio di linee però potrebbe benissimo essere un libro intero un'enciclopedia intera dubito che scrivano enciclopedia con l'accento sbagliato però potrebbe essere comunque un testo molto più lungo rispetto a dei sottotitoli di un film o di un documentario quindi come possiamo fare come possiamo sistemare questo file utilizzando il computer appunto in modo da far fare al computer quello che vogliamo che dovremmo far noi normalmente a mano come detto possiamo usare il software sed quindi il comando sed molto semplice quindi diamo un pipe ok al file quindi cat l'input poi gli apro un pipe gli do un pipe e ci aggiungo sed e poi ci voglio aggiungere questa opzione che è s poi slash non so come si chiama in italiano sta roba poi voglio andare a prendere il file che allora s sta per search quindi cerca cercare il primo termine che è quello presente che voglio cercare nel testo un altro un altro slash e poi il termine che voglio sostituire quindi e e poi ci aggiungo slash e ancora ancora uno slash e g la g praticamente va ad attuare diciamo questa opzione questa modifica a tutte le linee presenti nel testo non solo la prima ma a tutte a tutto l'intero file ok possiamo selezionare oh mi sta chiamando la mia ragazza ma non c'ho tempo adesso quindi ciao ok quindi se facessi se schiacciassi invio adesso lui ecco mi darebbe la il risultato e come possiamo vedere tipo qua ci ritroviamo la rivoluzione è adesso con l'accento corretto però c'è un problema eccolo qua il problema che anche il perché ok è stato modificato in realtà il perché era giusto nel senso che era giusto l'accento dall'altra parte mentre lui qua ha semplicemente cambiato tutto cioè lui ha detto quello ha fatto quello che gli ho detto di fare semplicemente ha preso quel carattere l'ha cambiato ok per cui cosa facciamo a questo punto ci piazza qua anche un grep e per far vedere proprio come non c'è più questo carattere non c'è più nel file è stato tutto sostituito così con questo e quindi anche qua il perché che noi al nord tra l'altro diciamo perché come è scritto qua e non diciamo perché come dovrebbe essere invece pronunciato anche il perché non so allora dopo di che tutte ste robe qua state tutte sostituite in modo errato affinché ok quindi cosa vogliamo fare vogliamo aggiungere un'altra opzione per far questo possiamo aggiungere un trattino e dash i e aggiungere un'altra opzione qua ok qua separiamo e ci voglio aggiungere il che quindi tutto quello che era che è stato trasformato diciamo il modificato in che lo voglio riportare a che come era giusto prima ok fatto e come vediamo qua adesso mi ritrovo solo la e e non mi ritrovo più i perché o i dopo di che che invece sono stati modificati giusti giustamente come vedete qua affinché perché dopo di che eccetera 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 dopo di che qua è tutto eccoci buono adesso è stato corretto questa cosa qua ma c'è ancora qualcos'altro e questo qualcos'altro qua è il se che non c'è così come come dovrebbe essere ma c'è il se che in realtà non esiste in italiano ma cosa ci troviamo qua a questo punto in questo momento ci troviamo un mosè che è scritto giusto in questo modo e ci troviamo invece un se che è scritto sbagliato per cui adesso voglio andare a modificare questo se senza toccare questo mosè senza toccare mosè molto semplice un'altra opzione quindi trattino e ancora s spazio se slash spazio se slash g quindi applicato a tutto il file quindi cosa ho fatto qua lui va a cercarmi spazio se ok quindi uno spazio vuoto e poi il se che spazio vuoto qua non c'è in mosè ok perché c'è una u quindi in questo modo io riesco a modificare solo queste cose queste parole qua ok quindi spazio e se se vado ad applicare e vado poi a fare un grep sul se vedo che ho mosè e basta qui e se invece vado a fare un grep sul se mi ritrovo il se così come deve essere bene un'altra cosa non è finita qui c'è anche un errore con il ne ok così è come deve essere ok quindi con l'accento chiuso penso che si è chiuso non ho idea comunque invece io ho ne come vedete qua poca roba sono 4 e basta uno questo qua è stampatello la n poi vi dirò come cambiarlo però sono 4 li voglio cambiare anche questi andiamo aggiungere una equa trattino e s slash no non questo ne slash ne slash g ok adesso non ho più ne che è sbagliato ma avrò ne eccoli qua ok qua è stato corretto l'unica cosa è che questo qua non è stato corretto perché? perché lui è andato a cercare i termini con il minuscolo ok perché gli ho detto di cercare specificamente il minuscolo ora cosa posso fare qua? posso aggiungere un'altra lettera qua che è la i maiuscola che non non fa caso ai caratteri maiuscoli minuscoli semplicemente sostituisce tutto come possiamo vedere qua adesso è sostituito né alla stampa mentre qua era né alla stampa però cosa è successo? che mi ha praticamente tolto la lettera maiuscola qua quindi a sto punto non uso questa opzione penso che ci sia sicuramente secondo me c'è un'altra opzione ma io non la conosco penso che c'è un'opzione per comunque selezionare dei termini dei caratteri diciamo indipendentemente dal se sono maiuscoli o minuscoli e poi comunque ricordarsi di questa differenza nel senso che poi quando vai a modificarli si ricorda di questa differenza quindi io voglio togliere qua questo e quindi rimarrà il ne maiuscolo così sbagliato e ci vado ad aggiungere un'altra opzione qua quindi s dash n maiuscolo e e poi spazio a come vediamo qua io mi trovo né alla stampa né ai familiari quindi nessun altro qua ha la a in questo caso se un altro carattere qua avesse la a magari aggiungerei non so alla piuttosto che poi qualcos'altro se qualche altro carattere avesse né alla chiesa per dire aggiungerei né alla stampa o né alla s avrei già abbastanza quindi da né a voglio portarlo a né a con l'accento giusto voglio andare ad aggiungere slash e g e come vediamo qua è stato sostituito in modo corretto quindi qua c'ho i né giusti e qua ho il né giusto che rimane maiuscolo basta fine posso andare adesso un po' a controllare i vari se se perché perché se tutto è corretto quindi vado a controllare gli e adesso affinché anziché tutto corretto se né come vediamo qua né alla stampa né i familiari di per sé voglio andare a controllare le adesso questa è l'immagine è servito non c'è nessuna ragione tutto perfetto l'unica cosa che voglio fare adesso è togliere il grebo assolutamente perché se no lui mi va a scremare diciamo e va a selezionare solo quei caratteri presenti e voglio andare a salvare il file con questa freccettina qua non so come si chiami non ho idea e voglio semplicemente salvare salvare il file non voglio sovrascrivere il file originale ma ne salvo un altro che io ho già salvato tra l'altro per cui non lo risalverò ancora perché ho già fatto il video in inglese l'ho fatto le spiegazioni in inglese e quindi ecco tutte le opzioni che volete le modifiche questo quell'altro non c'è fine a sta roba fino a quando aggiungete trattino e poi potete aggiungere qualsiasi cosa cambiare anche numeri cambiare caratteri tutto in automatico tutto computerizzato appunto stiamo usando un computer per cui approfittiamone una roba che è fatta a mano manualmente con un editor di testo ci si impiegherebbe un'ora minimo con un testo il doppio il triplo il quadruplo dalla lunghezza di questo lasciamo perdere ore ore giorni anni vite addirittura bene questo è quanto applicate tutte le vostre opzioni poi le date questa freccettina qua che probabilmente scrive ok il file quello che l'output del comando viene scritto su questo file qua punto fine zacchete scritto bene questo è quanto farò altri video in italiano in caso se sono d'aiuto qualcuno e nulla ci vediamo alla prossima spero di esservi stato d'aiuto e tanti auguri ciao